Mandare a rinegoziare le azioni perché sono cambiate le priorità, non capisco quale sia il motivo, perché il piano era un buon piano e stava funzionando. Poi ci sono certe proposte specifiche con la flat tax che sinceramente io trovo rischiosi in termini finanziari perché costa il nucleo di soldi della flat tax e poi ingiuste perché si va a tagliare le tasse a chi ha reddito più alto, mentre chi ha reddito più basso riceve molto poco da questo taglio di tasse.